...della fotografia in alto, si vede l'aeroporto dove aveva già un antico canaletto che se io ho fatto la proposta, restaurare questo canaletto che va fino alla stazione aerea e inaugurare anche altra maniera di trasporto, per eccellenza il trasporto di embarcazioni che salga dall'aeroporto e pone il visitante nella parte di hotel e di conto. È una maniera variante che non risolta assolutamente ma che libera con certezza, avrà di liberare un tanto il trasporto individual dell'automobile che oggi è il più grande nemico della città.